Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per parlare un po' di allenatori Perché c'è qualche cambio in panchina Perché sono arrivati due esoneri Perché sono pronti a subentrare due nuovi allenatori in questa serie B E soprattutto perché parliamo anche un po' di altri allenatori Che per me rischiano fortemente la loro panchina nel dopo sosta Nel caso per l'appunto in questi giorni non arrivasse un esonero Che come magari è successo per l'appunto in due squadre ieri Ne parliamo in questo nuovo video Mi raccomando però prima di partire con l'analisi Vi devo chiedere un po' di giorni su qua sotto 30, 40, 50 mi piace qua sotto per supportare i miei contenuti Un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi Mi raccomando iscrivetevi non vi costa nulla Questo è un canale che parla solo e unicamente di serie B E noi partiamo subito Partiamo dal Bari Bari ragazzi che esonera Michele Mignani Finisce l'avventura di Michele Mignani Nato il 30 aprile 1972 52 anni A Michele Mignani sicuramente a Bari avranno un ricordo ottimo di questo allenatore Che ha fatto cose importanti Ha riportato il Bari in serie B L'anno scorso per soli 120 secondi non ha portato il Bari in serie A E forse quella è stata la grande slide indoor di Michele Mignani a Bari Se lì hai la fortuna che Pavoletti non ti fa golli e riesce ad andare in serie A Forse oggi non parlavamo più del Bari in questa categoria E magari parlavamo di Michele Mignani alla prima esperienza in serie A con il Bari Dopo che il Bari era fallito per l'appunto E sicuramente quella è stata una slide indoor molto importante Lì secondo me doveva già arrivare alle zone Nel senso che era giusto allontanarsi Separarsi dopo quella partita Perché quando succede quel tipo di avvenimento In una gara così importante in casa Di fronte a 60.000 spettatori È giusto che secondo me poi si conclude il tutto Con una separazione che deve essere consensuale Che deve essere giusta Che deve essere apprezzata da entrambe le parti Ci deve essere totale sintonia nell'allontanarsi Dopo comunque un campionato Quello fatto l'anno scorso dal Bari Importantissimo però appunto Colminato con la finale playoff Per solo per 120 secondi Dal fischio finale dell'arbitro Ricordando anche che però il Bari Prima di quel gol di Pavoletti Aveva colpito una traversa Con Folo, Ruscio Neanche quello è stato un avvenimento importante In quella finale playoff Però Michele Mignani che quest'anno Ha provato a ripartire Con una squadra comunque completamente diversa Con una squadra che magari era leggermente più Che quest'anno magari E' un po' più scarsa rispetto a quell'anno scorso Perché ha perso giocatori importanti Come Chedira, Caprile E Folo, Ruscio per l'appunto Li ha sostituiti con Diò Con Brenno Cuzzupia Centrocampo Comunque secondo me è un giocatore interessante Che può far bene Ma sicuramente il Bari per me E' leggermente meno forte dell'anno scorso Cosa paga Michele Mignani Di questo Cosa paga Michele Mignani Per essere arrivato alle zone Sicuramente di non aver vinto tante partite In questa via di Serie B Perché ha vinto una gara su Su 9 partite Ha comunque fatto 10 punti in 9 partite Perché ha raccolto ben 7 pareggi Ha perso solo una volta E però questo Non è bastato Per non evitare le zone In questa sosta Il Bari ha preferito cambiare E cambia Secondo me In peggio Perché andare a prendere Pasquale Marino E' un grandissimo punto interrogativo Ragazzi Pasquale Marino Non allena da due anni Possiamo dire Perché l'ultima esperienza E' datata Anno 2021-2022 Quella stagione calcistica lì Ha allenato il Crotone Dal 29 ottobre Fino al 10 dicembre 7 partite Medi appunti In quelle 7 partite 0,14 Un disastro Va detto che comunque Poi con il Crotone lì Ragazzi Retrocede in Serie C Ma anche L'allenatore Per appunto Pasquale Marino E' stato in piccola parte Complice In quelle 7 partite Della retrocessione Del Crotone In Serie C E quindi per me Va a prendere un allenatore Ragazzi Che secondo me Ha poco da dare Ancora al calcio di oggi Vedremo come entrerà In questo Nello spogliatoio Bari Vedremo cosa farà A rientro della sostra Sicuramente Un suo Una sua Una sua carta da giocarsi E quella di lavorare molto In queste due settimane di sosta Poter conoscere bene Il gruppo squadra E non dover subito giocare Delle partite Che può essere poi Un bastone dalle ruote Quando subentra Un allenatore Ha cambiato in corso Però per appunto Pasquale Marino E' un allenatore Che deve rilanciarsi Che deve rilanciarsi In tutti i sensi Perché l'ultima esperienza È negativa L'ultima vera esperienza La può aver fatta bene Con la SPAL Annata 20-21 Facendo dal 12 agosto Fino al 16 marzo 34 partite 1,59 punti di media Partita Non un'annata straordinaria Ma neanche Neanche pessima Come le sette partite Fatte a Crotone Vedremo Diamo gli tempo Vediamolo all'opera Ma sicuramente Un grande punto interrogativo Quello di Pasquale Marino A Bari E' un allenatore Ragazzi Che ha fatto fatica Nelle sue ultime esperienze È età 61 anni 9 anni più vecchio Rispetto a Michele Mignani Sono molto curioso Di sapere Cosa potrà dare Alla squadra Bari Alla piazza Bari Sicuramente arriva Non in un momento bellissimo Arriva sicuramente Con lo scetticismo generale Da parte dei tifosi E quindi avrà tanto da fare Avrà tanto da dimostrare E tanto da guadagnarsi In quella piazza Che è molto molto calda Come quella di Bari Chiudiamo ragazzi Il capitolo Il capitolo Bari Andiamo invece Con il capitolo Lecco Perché Lecco ragazzi Esonera Esonera Luciano Foschi E prende l'allenatore Zaffaroni L'anno scorso Ha culminato La stagione finale Con una grande salvezza Al play out Possiamo dire Con il Verona In Serie A Luciano Foschi Va via dopo 6 partite Dopo che ha raccolto Un punto Con 5 gol fatti 13 gol subiti Inevitabile Secondo me Lezzonero Anche per la pessima E brutta prestazione Che ha fatto A Cosenza Settimana scorsa Nel weekend Appena passato Persa la partita Poi persa Per 3 a 0 Ha fatto veramente Vedere poco Il Lecco In queste prime 6 partite Anche se Secondo me La squadra costruita Da Presidente Di Nunno E' una buona squadra Con giocatori interessanti Per me La scelta del nuovo tecnico Marco Zaffaroni E' un'ottima scelta E' un allenatore Che ti può portare Esperienze Ti può portare Idee nuove Rispetto a Luciano Foschi E comunque E' un allenatore Che arrivi con una situazione Già abbastanza complicata Così come è arrivato L'anno scorso a Verona Era una situazione Anche complicata L'anno scorso Quella del Verona In Serie A Però sicuramente Avrà tanto da fare Deve migliorare la fase difensiva Zaffaroni Deve migliorare la fase offensiva Deve dare un'idea A questa squadra Cosa che si è vista Ben ben poco Nelle prime 6 partite Luciano Foschi Saluto dopo aver Comunque riportato L'Eco in Serie B Dopo 50 anni E di questo Verrà eternamente Credo Ricordato In In Serie B In Alecco E soprattutto Paga magari Un Pre-campionato Fatto di Troppi punti interrogativi Fatto di Troppe sentenze Fatto di Troppe cose Extracampo Prima essere in Serie B Poi vince il Perugia Poi torni a essere tu in Serie B Ma devi aspettare Il consiglio di Stato Che si pronuncia Solo a fine agosto E quindi anche questo Può avere inciso Nella preparazione Della squadra Per queste prime 6 partite Possiamo dire Però comunque Foschi va ricordato Perché ha fatto Grandi cose All'Eco l'anno scorso Vincendo i playoff Che Vincendo i playoff In Serie C Che sono qualcosa Di difficilissimo Da non favorito Con una squadra Normalissima Che inizio anno Come aveva detto Il presidente di Nunno L'anno scorso A inizio stagione Davano tutti Per una squadra Che doveva lottare Per non retrocedere Nel girone A Di Serie C E quindi Un imboccoluco Per il futuro Luciano Foschi Che sicuramente Avrà occasione Per rifarsi Sono molto curioso Invece Di quello che può dare Marco Zaffaroni Che l'anno scorso Ha fatto vedere Ottime cose a Verona Può fare bene Secondo me A Lecco È un upgrade Secondo me Come allenatore Da Foschi A Zaffaroni Vediamo che tipo Di lavoro Può fare Modulo più utilizzato Secondo Transfer Market È il 3-4-2-1 Lui aveva avuto Anche un'esperienza Con il Cosenza In Serie B Fatta 17 partite Con una media punti Molto molto bassa Neanche un punto A partita 0,88 Ma mi ricordo Che in quell'anno lì Il Cosenza Poi si salvò Tramite play out Con Bisoli in panchina Ma lui iniziò Molto bene L'esperienza A Cosenza Con un buon bottino Di punti Fatto inizio campiato Poi si era un po' perso E poi per l'appunto Era inevitabilmente È arrivato l'esonero Ma l'anno scorso Verona per me Si è tanto rilanciato Marco Zaffaroni Vi do anche un cenno Secondo me Sulle panchine Che a breve Potrebbero saltare Occhio a quella Della Spezia Alvini è sempre in bilico Non dovesse vincere Le partite post sosta Potrebbe arrivare Un esonero Occhio a quella Dell'Ascoli Di William Viali Anche se l'Ascoli Ha fatto 4 risultati Utili consecutivi Per me L'esonero potrebbe arrivare In caso di qualche sconfitta Post sosta Occhio a quella Di Andrea Pirlo In casa Sampdoria Per me il post sosta Sarà fondamentale Se riesce a vincere Le prime due partite Dopo la sosta Potrebbe rimanere Altrimenti è inevitabile Un eventuale esonero E anche occhio A quella di Stefano Vecchi Con la Ferral Pistolo Perché comunque 5 punti 9 partite Sono comunque pochi E la situazione È sempre molto in bilico Attenzione a Lucarelli A Terni E poi per il resto Direi che tante altre panchine In grande pericolo Non ci sono Monitoriamo anche Quella di Aquilani A Pisa Vedremo come Rispondere al Pisa Dopo la sosta Fatemi sapere la vostra Qui sotto con un commento Pollicione su al video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi